E' stato preso uno degli sporcatori seriali di Fosso Pavese, il tratto della campagna vigevanese che dalla pescatora porta verso Corso Novara, una delle zone più critiche per i problemi abbandoni che nei giorni scorsi, dopo la multa all'incivile, è stata ripulita grazie all'Ufficio Ambiente del Comune e ad ASM. E' questo uno dei primi risultati della nuova task force messa insieme dall'amministrazione comunale. Abbiamo messo in piedi un gruppo di persone, sette persone più l'assessore Scardillo e l'assessore Semplici, un gruppo di persone che si interfacciano attraverso una mail e un protocollo per la gestione dei rifiuti abbandonati. Questo viene fatto per non cavallare le situazioni, questo viene fatto per dare celerità all'operatività, questo viene fatto per controllare le zone critiche, chiedere l'inserimento di fototrappole e con queste beccare delle persone che vanno a fare quello che non devono fare. I risultati arrivano, con le fototrappole poi abbiamo preso qualcuno. Nelle zone critiche continuano a essere collocate le fototrappole, le cui posizioni cambiano di continuo. L'invito del Comune è quello di segnalare tempestivamente gli abbandoni alla polizia locale, ricordando l'app per cellulare OneSafe dove è possibile inviare anche immagini sfruttando la geolocalizzazione del telefonino. Gli agenti possono inoltre mettere a verbale le testimonianze di coloro che assistono agli abbandoni, magari acquisendo documentazione fotografica. Ogni multa per abbandono di rifiuti ammonta a 250 euro. In mese di dicembre e adesso gennaio, quindi in due mesi, abbiamo sanzionato 8 persone, una multa da 250 euro. Abbiamo anche visionato 2.218 file e i nostri agenti che girano in borghese facendo anche degli appostamenti, sono riusciti anche a multare delle persone che sembravano persone insospettabili. Pertanto l'inciviltà di questa gente è alle spalle di tutta la collettività perché togliendo i rifiuti, l'SM quando va a ritirare i rifiuti ha un costo che va alle spalle nostre.